Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo episodio della Luke Pack ragazzi scusate per questa assenza in questi giorni ma ho avuto molto da fare con la scuola e tutto il resto però conservavo dei video che già avevo fatto appunto che ho pubblicato ma questo è appena fatto e ritorniamo sulla Luke Pack come vi ho detto prima eravamo rimasti con il fare cioè la stanza l'avevamo fatto dovevamo solo fare i macchinari bene gli spazi sono 1,2,3,4,5,6 faremo 3 di questi e 3 di questi cominciamo con queste che si fanno con l'argilla andiamo a cercare l'argilla ok ragazzi ho trovato l'argilla un po' di metri dalla casa ora prendiamo poi dovrò farmi anche una coltivazione di panini perchè altrimenti che la carne è troppo cara ok 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 qui c'è un altro da là OPS OPS sta arrivando l'ottico orco giro allora raccogliamo questa cosa e andiamoci alla casa ok dai dai oh esci posso ok ragazzi stop e ci vediamo a casa ok ragazzi durante il ritorno a casa mi sono permesso di prendere qualche bistecca e un po' di semi e raccogliere le mie cani da zucchero quindi prima cosa mettiamo le bistecche posiamo no dai posiamo queste 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 ce le conserviamo perchè poi faremo i panini i miei fili e facciamo un bel po' di cubi in pratica ne dovremmo fare cin quindici cubi bene vediamo un po' quindici cubi due auranzati quindi ne possiamo due in caso ci servono perciò quindi uno e due li spacchiamo quattro per uno buono e li posiamo qua ok allora li mettiamo qua cinque per uno no aspetta uno, due, tre, quattro, cinque cinque no ce ne servivano venti altri eh no ce ne ho smestrati bene dove sono dove sono ma io ce li avevo porca troppa ma che coglione vabbè inseriamo qua se non l'ho insegnato ok buone allora ma sono in no perchè non perdevo fame non ho seguito nessuno quindi ne riesco a fare altri cinque vediamo altri cinque altri venti cose dai dov'è dai altri venti e abbiamo fatto le prime cose noi stiamo a tre minuti diciamo setta voglia speriamo che questa frase non porti sfortuna che ogni volta che c'è qualcosa di positivo ma in negativo tipo io adesso se dico a voglia e subito siamo al decimo minuto e ancora devo fare niente è il colmo quindi cinque cose ehm 10 minuti di perro scusate e schismo ehm col cazzo prendiamone quattro dai oppure tutte e cinque dai perchè tanto ce n'è sempre uno di riserva ci mancano pure i minerali porco dito e cioè allora mettiamo questo e questo ne prendiamo uno due sei sette otto nove e questo è dieci ok grazie claystar dov'è dov'è vabbè ci ma che coglione la ne dovevo fare tre coglione vabbè ci conserveremo sti cose se poi ne dovevo fare tre aspetta fate forse da buona lasciamo stare allora andiamo a usare e ora che ci serve allo ingot tre ce ne servono quindi quattro otto dodici pezzi di nicolita dodici pezzi di nicolita penso che dovremmo averli e sette ok dodici pezzi di nicolita e tre visite che non abbiamo buono non abbiamo un cazzo dovremmo andare in caverna cinque minuti e non ho fatto un cazzo cioè diciamo che si l'ho fatto allora tre nicolita altri cioè che cazzo dico tre cose altri tre noo che non ci faccio uno due ok buono mettiamo un po' che cosa dovremmo fare eh scusa mi rubo un carbone per cucinare queste piscicche grazie dai uno è fatto prima blu elettrico allo tatarone ogni tanto qua ci servirebbero i mattoni tu ma porco zeus no mettiamoci all'opera allora prendiamo questi li spacchiamo mettiamoli così la cazzo dai quanto ne prendiamo la pala spacchiamoli dai porto giro quanti ce ne vengono 40 po' mettiamoli a cucinare abbiamo carbone no ho qualcosa che non ho già no ehm no ok stiamo bene ragazzi tutti i miei app senza niente anche una bistecca ok qua innanzi abbiamo i tre non altro punis e li andiamo a posizionare poi posiziono qua uno due e tre ok qua ci stanno ricaricando poi dopo vado a vedere come va con come si chiama con la battery box pieno vuota allora poi 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 mettiamo a cucinare oh no c'è del carbone si mettiamo a cucinare questi 40 pezzi dove li ho messi dove cazzo ho messo i 40 pezzi oh dove ho messo i 40 pezzi i cani ho smistati i cani ho smistati ma dove sono oh ma io li avevo presi ma ma io ma io ma 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 non c'è un cazzo eh allora allora niente scherzi eh dove sono i miei pezzi vabbè ragazzi già stiamo a otto minuti eh stop metto a cucinare cose e ci vediamo tra poco ok rieccomi ragazzi dopo uno stop di video per rivedere per rivedermelo per vedere dove erano finiti i 40 pezzi di argilla e guardate come uno scemo non ricordavo che le avevo messi eh nel 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 nella fornace per cucinarli il mattone poi mi sono permesso di usare un po' di energia del cleanstar per prendere del carbone che ormai siamo a corto di minerali si sa ehm avevo deciso di prendiamo questi vediamo un po' ok qua è il mezzo qualico però viene di metterli da adesso alla fine giusto per vedere com'è eh infatti si si consuma quindi vabbè ma è giorno quindi dovrebbe collezionarsi però avevo deciso di di ehm di mettere una batbox per le alloy furnace e una batbox per questi ma per adesso vabbè una sola battery box adesso ne va bene una cominciamo a fare dei blocchi ok e ne dobbiamo fare massimo oltre quindi ci serviranno appunto quindici di questi e un po' se più vale questo quindi quindici ehm quattro quattro otto dodici quindici diciotto pezzi di questi diciotto pezzi di questi ehm 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 si diciotto per tre ehm diciotto più diciotto 36 più diciotto ehm 36 36 più 18 più 18 più 18 quanto micchia fa insomma bravo in matematica 36 più 18 a 54 cioè vabbè ragazzi io stopo perchè già abbiamo superato i 10 minuti ehm ci vediamo quando avrò finito qua a tra poco ok ragazzi scusate ma devo andare quindi qua sta finendo di pare poi farò io tutto a telecamera spenta intanto qua già ho fatto le cose e ho preso il mio amante da qualcosa che l'ha fatto poi lo sta facendo un altro e ci vediamo alla prossima ciao ciao ragazzi alla prossima ciao ciao